Il rap è competizione, il rap è mettersi in gioco e tutto quanto è chiaro che quando vengono poi ci sono alcune persone che abusano dei dissing per farsi pubblicità però lì sei un fallito, non sei un rapper però se tu hai qualcosa da dire, hai un problema con un altro cioè non c'è cosa migliore che metterlo in rima Fa parte del rap game, fa parte del gioco Questo stiamo facendo, capito? Ci mettiamo in gioco